Ragazzuoli, ciao a tutti. Oggi tocca trattare un tema che ci fa abbastanza scaggassare nelle braga a questo punto e la posizione di Lellone è ben più che iconica perché giustamente ne stavamo parlando tra noi anche prima privatamente e quando una boiata viene detta una volta e poi finisce lì è un discorso, ci può stare, fa parte delle dinamiche di mercato, sappiamo come funziona e va benissimo. Ma nel momento in cui viene ripresa più volte e soprattutto in una singola serata viene ripresa da comunque possiamo partire tutto sport, giornale, filo juventino però sul mercato ovviamente beneficio del dubbio, ci mancherebbe enorme. Zalzaroni che è stato uno dei primi a prenderla in considerazione questa roba, quindi bisogna dar merito anche al Corriere per questa traccia. Però soprattutto poi Di Marzio, Fabrizio Romano, che bene o male situazioni legate all'Inter, situazioni legate al Chelsea o banalmente alla Premier League. Ci prende, ci prende spesso, però hai detto che si concretizzi, però intanto la traccia di mercato lui l'adatta. Anche perché sono iniziate ad uscire anche proprio fondamentalmente delle cifre nello specifico, ma banalmente non abbiamo messo il soggetto in questione che è Romelu Lukaku. Big Rom, come lo definiremo insomma gli interisti. E come probabilmente a questo punto lo definiremo noi. Col cavolo, Little Rom. Allora, facciamo un piccolo recap di quelle che sono le cifre che quantomeno sono circolate. Vai. Vado a memoria, ma se è anche tardissimo potrei sbagliarmi. 37 milioni e mezzo, più un e mezzo di bonus, però offerta valida solo nel momento in cui la Juventus riesce a cedere Dusan Blauvic. Quindi non si può neanche noi ipotizzare una possibile accoppiazione. No. Offerta valida solo se tutto sport si è anche spinto dicendo che il giocatore pare abbia già accettato 11 milioni netti della Juventus. E io qui lascio davvero un importante beneficio del dubbio. Però quando Di Marzio, Romano, parlano così nello specifico di determinate cifre e quant'altro, la paura c'è, Lellone. La paura c'è e come? Altro che anche perché ad oggi non abbiamo ancora capito chi effettivamente sta... Qual è lo scopo di questo calcio amorecato? Accontentare Allegri o ragionare anche su una linea un po' più futuribile? Anche perché sappiamo che il destino di Allegri più o meno è legato a questa stagione e basta, poi finirà. Però se tu fai un investimento di quel tipo e ti imbarchi e ti esponi economicamente per prendere Romelu Lukaku, significa che il giocatore rimane, secondo me, come un quadriennale, almeno. Ah, e più che altro qui la vera preoccupazione è anche un'altra. E che se si continua, oltre che a parlare di questo nome, ma sempre come, vabbè, offerta valida solo se Vlaovic parte... Significa anche che c'è l'intenzione di cedere Vlaovic. Ed è quella probabilmente la cosa più preoccupante, ed è lì che ti viene anche da chiedere, ok, magari ti arriva anche una cifra importantissima dove in questo specifico periodo storico è quasi impossibile dire di no. Magari anche Vlaovic sarebbe tentato ad una partenza magari per ambizioni, magari anche per ragioni... Champions League che non facciamo... Ma anche a livello di gioco, non ne diamocelo. Al Paris, va al Paris, non al Chelsea ovviamente, perché adesso è il Paris che interessa... Certamente. Quando venderanno un Bappé, c'è tutto un waltzer però, eh. Però a quel punto dici, se io però prendo quella cifra per Dusan Vlaovic, anche se per Lukaku ipoteticamente ne investo la metà, ne vale la pena? Per me no, per me no, perché Romelu Lukaku, non so, controlla su Wikipedia, ma mi pare che abbia 30 anni. E del 93 come Pogba, come Edibala, pare magari dalla regia... Quindi tiriamo con questo qua che è un 11 milioni netti, è l'errore che io dico sempre... 13 maggio 1993, 30 anni. 30 anni. 30 anni. Ho detto bene, non sbagliavo. Comunque, 7 anni più vecchio di Vlaovic. Esatto. Allora, questo discorso affrontato nel 2018 poteva avere un senso all'epoca, per età, per futuribilità. E anche perché ti serviva la prima punta. Esatto, da affiancare a Ronaldo che faceva sempre l'esterno un po' da parte, eccetera. Benissimo. In questo momento la Juventus va a prendere un trentenne che nel tempo andrà a inflazionare quella che è la sua prestazione. Ovvero le prestazioni a 34 anni di Lukaku non saranno quelle attuali. Noi lo stiamo pagando per le sue prestazioni attuali con 11 milioni, ok? Lei a 34 anni non renderà più come adesso, molto probabilmente, e calerà. Il rischio è di bruciare economicamente il denaro per accontentare un allenatore come Allegri che non ha voglia di imbarcarsi in nomi nuovi. che a mio parere non solo pensa a un nome che è Lukaku, che serve nell'immediato, che magari ti può fare anche 20 gol a stagione. Per carità. Ce li ha nelle corde, ce l'ha già dimostrato, anche se con Allegri faccio fatica un po' a vedere Lukaku che segna 20 gol. Ma è una mia opinione personale e non voglio tediere nessuno su questo discorso. Il fatto è un altro, caro il mio Kino. Che non si va su un giocatore più futuibile, che si può lavorare. Jonathan David a questo punto, con un ingaggio inferiore degli 11 milioni, anche se è pagato con un cartellino un po' più caro, che ne so, 50-60, è un investimento molto più intelligente. Allegri prima o poi, andrà via. Però questo giocatore se lo rappone, ci rimarrà. Ed è il classico errore che la Juventus ha fatto e rifatto nel tempo. Ma infatti ho anche una domanda che ti voglio fare, sinceramente. Ti sembra il colpo giuntoliano? No, mi sembra un colpo molto allegriano, di marca molto allegriana, di impostazione allegriana, perché prende un giocatore che probabilmente all'allenato gli piace. Ma prendiamoci in giro. È stato anche oggetto del desiderio nel 2018 e lo vede di nuovo anche oggi, nonostante siano passati comunque cinque anni. Perché a questo punto... Si cristallizza sempre sui stessi, andasse a vedere il calcio veramente. Perché a questo punto, come detto inizio video, nel momento in cui uno fa una sparata un giorno, poi basta un discorso quando continuano ad essere due o tre volte e in una sera. Se ne escono letteralmente tutti, significa che effettivamente... Qualcosa di sotto c'è... Dove tra le altre cose... L'altra cosa che diceva Zuccolino, che è reale, Zuccolodulo, che salutiamo, che questo è un colpo per mettere in difficoltà l'Inter. L'Inter ha dato via a Dzeko, l'Inter sta cercando di dare via a diversi giocatori. Nel reparto avanzato vorrebbe puntare sulla famosa Lula, Lautaro e Lukaku. Lukaku è il terminale offensivo di quell'Inter. Senza Lukaku, probabilmente mandiamo in salita i loro progetti di mercato. Perché dovrebbero virare su un'altra punta differente, che magari non dà le stesse garanzie che in questo momento dà Lukaku. Però è tutto un ragionamento legato al brevissimo termine. Non è un ragionamento di lungo medio periodo, che è quello che ci si aspettava con il nuovo corso di giuntoli. Tra l'altro, anche questa cosa, tutto sommato, è doveroso dirla, vedendo che alla fine proviene dalle stesse identiche fonti. Non si parla neanche di magari una Juventus interessata, ma un giocatore che ti dice no, lì non vado. Perché invece pare che Lukaku abbia chiacchierato, che abbia aperto e che soprattutto l'Inter si è rimasta anche un pochino infastidita da questa cosa. Quindi pure questo fattore non va tenuto minimamente sotto gamba. Sai che cosa prezzi lì? Un'operazione di disturbo reale, fatta bene, coi fiocchi e poi ti tiri indietro. E intanto lo fai già a scazzare con l'Inter. Quello sarebbe veramente una grande cosa. Anche perché appunto, noi basandoci su questa notizia specifica, l'offerta è valida solo se vendi Vlaovic, ma al momento per Dusan Vlaovic non è arrivata nemmeno un'offerta. Quindi magari potrebbe essere anche un qualcosa per incentivare l'Inter a sborsare subito i 40 milioni per non si sa cosa, però sono considerazioni che uno fa. Perché ovviamente se te non vendi Vlaovic e a maggior ragione se l'alternativa poi è Romelu Lukaku, mi auguro davvero non accada a prescindere, ma se il sostituto è praticamente certo, eventualmente sarà lui ancora di più. Male male, non mi piace. Terrei Vlaovic tutta la vita, pur rimettendoci tanto denaro in una stagione che non giochiare le coppe, eccetera. Però anche lì vedi, comunque si parla di un investimento di più di 40 milioni dove al giocatore dovrai dare, tutto sport ha parlato di 11, ma anche non fossero 11 sicuramente sarebbero 7 almeno, almeno, almeno. Io credo che allora ci sia intanto una voglia di forzare la mano da parte di Allegri, perché secondo me Vlaovic era tra quei detrattori famosi del post Sevilla. C'era in mezzo e i rapporti non sono propri di liaci, però io fossi nei panni di Giuntoli, cercherai di fare da cuscinetto tra allenatore e giocatore idri, caro mister, tieniti Vlaovic e Vlaovic idri, caro mio, reggi quest'anno, poi arriverà un altro anno e ti prenderai in mano la Juventus e tornerai a fare tutti quei gol, verrai venduto meglio, la Juve ci guadagnerà di più perché ovviamente certi costi di ammortamento ce li porteremo avanti, il margine per la plus valenza sarà effettivamente più ampio, nuove idee, nuovo gioco e tu sarai finalmente valorizzato. Cioè il progetto che lo doveva vendere il direttore sportivo, in questo momento capisco che Giuntoli sia entrato in punta di piedi e giustamente esegua gli ordini dall'alto perché la permanenza di Allegri è un ordine dall'alto e lui si sta adeguando, però c'è un limite a tutto e questo è appunto uno di quei limiti che secondo me non andrebbe, non bisogna andare oltre perché questo è un danno che poi rimane nel gruppo ne stesso di Giuntoli perché ti rimane Lukaku fino a fine carriere, non sapevo neanche fino a fine carriere, fino a fine contratto perché è difficile da rivendere con quell'ingaggio là, con quella situazione là. Poi soprattutto magari se ti fa una stagione non proprio... Esatto, magari in parte che deve fatica un po' o magari sai alla terza stagione alla Juve ipotizziamo che venga e inizia a faticare, inizia ad avere problemi fisici perché ha una certa mole, ha una certa età e non inizia a rendere quanto sperato. Quello è un investimento a perdere, è un vuoto a perdere. Voi fateci sapere qui sotto la vostra con un commento... Sia chiaro, nell'instant Lukaku secondo me è un giocatore da 20 con la stagione. Però io mi chiedo fra due anni cosa sarà se sarà un giocatore da 20 con la stagione o i miei dubbi. Però i custi saranno elevati esattamente come quest'anno e quel è il mio dubbio. Un anno di prestito? Banalmente vendiamo Vlaovic perché dobbiamo fare cassa ma prestito con diritto di riscatto e poi non lo riscattiamo può essere una buona soluzione. Accontenti Allegri per un anno non lo riscatti quel giocatore lo rimandi al Chelsea e va a far culo. Il più vedere però se il Chelsea è disposto che un altro paio di maniche... Ecco, quella è un altro paio di maniche è chiaro. Ma evidentemente ci sarà tempo e modo di maniera per ragionarci... Speriamo che sia una boutade giornalistica e che poi ci svegliamo e con un vlog ci rimane. Però purtroppo se certe fonti si sbilanciano particolarmente quella pippa al culo mi viene se posso essere sincero però appunto avremo possibilità lungo andare. Fateci sapere qui sotto la vostra vi mandiamo un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!